Continua l'analisi territoriale per l'elaborazione del Master Plan di Terra d'Otranto, piano interprovinciale di sviluppo territoriale promosso dall'Università del Salento e dei comuni e province di Lecce, Taranto e Brindisi. Questa mattina presso il Salone di rappresentanza della provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, sindaco e presidente della provincia di Taranto ed il magnifico rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, hanno presentato la piattaforma su cui i portatori di interesse potranno formalizzare la propria iscrizione ai prossimi tavoli tematici e formulare proposte finalizzate sia ad orientare e coordinare investimenti, sia a creare sinergie territoriali. La piattaforma del Master Plan Terra d'Otranto arriva a Taranto, questo grande progetto che mette insieme un'area metropolitana che ha una storia identitaria comune. Sì, stiamo andando avanti in quello che era stato annunciato come un percorso molto concreto anche di coinvolgimento degli stakeholder. Come sapete dall'inizio del nuovo anno è partito questo tour di Unisalento che è un po' l'advisor che cura la cabina di regia del Master Plan nelle tre province salentine e il turno di Taranto. Vogliamo condividere l'idea programmatica che è quella di mettere a sistema progetti, infrastrutture, leve finanziarie comunitarie piuttosto che un percorso legato anche alla transizione giusta come dalla nostra programmazione strategica e fare in modo che queste aree siano sempre più sinergiche soprattutto nelle ricadute da creare alle imprese e ai nostri giovani. Insomma è una tappa importante, usciamo un po' dal racconto teorico e entriamo nel vivo anche delle proposte dal basso dei nostri stakeholder. E allora lei in una duplice veste e quindi duplice responsabilità perché il Master Plan prevede il coinvolgimento di province e comuni? Sì assolutamente era necessario, lo avevamo detto già l'anno scorso insomma in campagna elettorale mettere a sistema gli sforzi che il Comune Capologo stava compiendo in questa direzione anche di recuperare autorevolezza istituzionale, di fare un po' da locomotiva dell'area ionico salentina e il fatto che ci sia anche la provincia finalmente con rinnovato vigore è sicuramente un plus dell'iniziativa. Il ruolo dell'università rispetto allo sviluppo del territorio nelle parole del magnifico rettore dell'università di Lecce, professor Fabio Pollice. Per me esiste un esempio di terza missione, l'università si occupa di ricerca, di didattica e di terza missione. Questa sconosciuta perché è veramente complesso descriverla. Siamo una missione speciale. Missione speciale, missione speciale è essere una componente strategica per lo sviluppo del territorio. E accanto alle imprese, attraverso le attività di ricerca e innovazione e attraverso il master plan, affianca tutto il territorio, tutta la comunità, cercare di restituire questa fase di ascolto in un progetto organico e condiviso per tutta la terra d'Otranto. E la terra d'Otranto, preciso, non è un concetto astratto o una configurazione geografica che fa riferimento alla storia di questo territorio. Perché ancora oggi questa è una terra fortemente integrata e che secondo me, se dovesse sviluppare in futuro un livello più alto di integrazione economica, sociale e culturale, potrà esprimere al massimo le proprie potenzialità, perché a noi ci sono delle distanze notevoli fra le tre province. In realtà, se allontaniamo un attimo lo sguardo, ci accorgiamo che invece questo è un territorio fortemente coeso. In più, questo master plan non è ovviamente uno strumento a sé che non andrà a integrarsi con la pianificazione regionale. Tutt'altro, noi consideriamo terra d'Otranto come parte integrante del progetto regionale, perché siamo certi che una terra d'Otranto dinamica e produttiva sia fondamentale per lo sviluppo della Puglia, del Mezzogiorno e del Paese.